Il sistema solare. La navigazione all'interno del laboratorio virtuale viene effettuata cliccando sulle icone punti di interesse. Inoltre è possibile cambiare il punto di vista ruotando intorno al tavolo tenendo premuto il tasto alt più il tasto sinistro del mouse e trascinando quest'ultimo. Effettuare lo zoom con la rotellina del mouse o in alternativa utilizzando le gesture standard del dispositivo touch. L'esperienza presenta il sistema solare scomposto. I pianeti sono raggruppati su un apposito supporto, possono essere espressionati cliccando sull'icona del punto di interesse e devono essere posizionati negli alloggiamenti per l'allineamento corretto del sistema solare. Dal punto di vista relativo al punto di interesse è possibile spezionare i singoli pianeti con un clic e trascinamento con il tasto sinistro del mouse. Per l'allineamento del sistema solare trascinare il pianeta nel corretto alloggiamento. Nel caso in cui la posizione del pianeta non sia corretta lo stesso resta sospeso e l'icona dell'alloggiamento resta visibile. Completato l'allineamento dei pianeti, cliccare sul pulsante Esplora il sistema solare. È possibile così analizzare i moti dei pianeti cliccando su Start nella sezione Moti dei pianeti. Cliccando sulla sezione Proporzioni si può inoltre esplorare il sistema solare in relazione nel rapporto tra i diametri dei pianeti o delle orbite di rivoluzione.